Buonasera e grazie, sì, tonale devo dire in questo momento così difficile per tutti nel nostro settore sicuramente molto di più è una sferzata di energia e di positività. Con questa bellissima auto che anch'essa ha avuto dei ritardi di uscita proprio a causa Covid, microchip e quant'altro, oggi però possiamo dire che siamo sul mercato perché stasera questa è una preview, però dall'11 di giugno, 10-11 giugno potremo realmente cominciare a far vedere e provare questa bellissima auto ai clienti, per me motivo di gioia e positività. Il marchio Alfa Romeo con quest'auto torna sul mercato con un programma anche di prodotti futuri ed è l'inizio anche dell'elettrificazione di Alfa Romeo perché questa è la prima auto che appunto è un mild hybrid. Alfisti per sempre? Alfisti per sempre, dobbiamo essere onesti, li abbiamo un po' abbandonati in questi anni però siamo fiduciosi di poterli riconquistare ma più che altro di riconquistare i figli degli alfisti che sicuramente hanno sentito parlare molto di questo prestigioso marchio fantastico sportivo che ha dato tante emozioni sia nella guida normale che nelle attività sportive e d'altronde lo stiamo vedendo in Formula 1 che dopo solo due anni comincia ad avere dei risultati positivi quindi molto fiduciosi. Grazie. Con la presentazione della nuova Alfa Romeo tonale di fatto si apre una nuova era per l'Alfa Romeo di fatto una vera e propria metamorfosi e questo lo possiamo asserire per tre ragioni. La prima ragione è che finalmente l'ingresso dell'Alfa Romeo con l'elettrificazione poi con la digitalizzazione della vettura e poi appunto con il primo SUV compatto di casa Alfa Romeo. Per quel che riguarda l'elettrificazione la vettura è dotata di un nuovo motore mild hybrid 1.5 turbo benzina con un cambio automatico a sette rapporti integrato con un motore da 48 volt ed è questa in assoluto la novità per la nuova Alfa Romeo tonale da 130 e da 160 cavalli. Poi entro l'anno avremo anche la motorizzazione diesel 1.6 da 130 cavalli e la motorizzazione FEV con un 1.3 benzina con 275 cavalli. Per quel che riguarda la digitalizzazione è una vettura assolutamente connessa quindi con il nuovo infotainment Android e con tante novità che poi scoprirete nell'arco della serata. Per quel che riguarda la nuova linea mantiene sempre il DNA di Alfa Romeo ma soprattutto c'è sempre un richiamo tra il passato e quello che appunto sarà il futuro dell'auto. L'inconfondibile design dell'Alfa? Assolutamente sì, troviamo dei richiami meravigliosi per quel che riguarda la GT Line modello del 1970 e quando vedrete la vettura all'interno il classico cruscotto a cannocchiale quindi assolutamente richiami al passato ma con nuove tecnologie e soprattutto sostenibilità. Il mercato internazionale è sempre molto interessato a questo, vero? Assolutamente, come vi ho detto questa è una metamorfosi quindi di fatto è una rinascita del marchio Alfa Romeo quindi oltre alle nostre bellissime vetture attuali che sono Stelvio e Giulia si unisce questa nuova vettura di segmento C quindi in un mercato importante quindi Alfa Romeo ha lanciato di fatto la sfida a tutti quanti i competitor. Alfa Romeo Grazie